buongiorno e bentrovati per un nuovo incontro dedicato alla storia della profumeria in gran bretagna quest'oggi ci occuperemo di presentare quelle che sono le case che realmente hanno fatto la storia della profumeria britannica a partire da epoche molto lontane nel tempo e continuando la loro attività ancora ai giorni nostri cominciamo subito con floris siamo nel 1730 e juan famenias floris lascia la natia isola di minorca alla ricerca di fame fortuna in inghilterra che troverà sposerà una ragazza inglese e avvierà la propria attività che inizialmente si tratta di produzione di articoli per barberia e fabbricazione di pettini in realtà nella sua esistenza londinese mancavano moltissimo i profumi e le sensazioni che avevano contraddistinto la sua giovinezza vissuta nel mediterraneo di conseguenza floris nel tentativo di dare una forma a questi ricordi comincia a miscelare essenze e fissatori provenienti da tutta europa e creando così le prime fragranze a marca floris per la realizzazione delle quali fece ricorso a delle competenze che aveva acquisito nel corso dei suoi viaggi soprattutto durante un soggiorno a montpellier in francia se ricordate l'anno scorso abbiamo parlato dell'università di montpellier come uno dei principali luoghi di studio per quanto concerneva la distillazione e che all'epoca di floris era una città che contendeva a gras il ruolo di capitale della profumeria francese le fragranze venivano miscelate per i clienti su base individuale e le loro formule venivano poi annotate in modo da poter essere riprodotte e da poter realizzare ulteriori forniture esattamente quello che facciamo noi al giorno d'oggi quando vogliamo creare un profumo artigianale negli anni trenta del settecento i profumi erano delle vere e proprie novità quindi l'attività di floris era assolutamente pionieristica egli si deve riconoscere un notevole coraggio nel aver aperto un proprio negozio in un quartiere alla moda di fronte alla splendida chiesa che proprio in quegli anni era in stata costruita da sir christopher ren ovvero sia la cattedrale di sample german street all'epoca era una via stretta con il la pavimentazione la stricata era anche abbastanza buia quindi la sera prima di al calare delle ombre dovevano essere accesi dei lumi dinanzi alle attività commerciali per garantire un minimo di illuminazione tuttavia si trovava al centro dei commerci era in un quartiere particolarmente alla moda quello di saint james e rivaleggiava con bond street che era una via nelle vicinanze per il ruolo appunto di via del commercio all'interno di quest'area avevano sede i gentleman's chambers oggi li definiremo dei residence erano dei luoghi in cui per esempio i proprietari terrieri che dovevano recarsi a londra per qualche giorno fissavano la propria residenza o dove avevano i propri appartamenti dei facoltosi giovanotti londinesi la zona era quindi il centro l'epicentro dell'esistenza dei gentiluomini più eleganti qui si trovavano i principali club e quindi era un luogo in cui le persone più ricche desideravano fissare la propria residenza possiamo ricordare tra gli abitanti di questo quartiere il duca di malboro il poeta thomas grey sir thomas lawrence quindi tutte persone di una certa dignità sociale e siccome floris a german street aveva acquistato gli edifici che corrispondevano al numero 89 e stavano da entrambi i lati della strada cominciò a sviluppare anche ancora di più la sua attività affittando delle camere ad alcuni di questi facoltosi signori i quali indubbiamente contribuirono a far crescere la reputazione delle fragranze floris e la famiglia floris trasse il massimo vantaggio da queste relazioni e cementò dei legami eccezionali con i propri clienti a testimonianza di questo ci sono gli archivi di casa floris dai quali emergono delle vere e proprie chicche da un punto di vista storico per esempio nel 1810 è stata ritrovata una ricevuta per l'acquisto di acqua di lavanda la famosa lavanda water che era stata redatta per l'ammiraglio george wilson il quale prestava servizio sotto il comando di lord nelson a questo si aggiunge ad esempio una lettera autografa di florence nightingale la quale ringrazia flores per il bouquet bouquet all'epoca era sinonimo di profumo a base di erbe aromatiche che aveva particolarmente gradito e nel contempo fornisce una descrizione della situazione dei soldati britannici ricoverati negli ospedali indiani quindi abbiamo anche uno spaccato della storia coloniale inglese sempre dagli archivi floris dai vari libri mastri emergono altre testimonianze importanti per esempio sappiamo che wyston churchill ebbe una sua ricevuta nel 1934 per l'acquisto di stefanotis e di special numero 127 acqua da toaletta qui vediamo anche una foto di marylin murro e anche qui una ricevuta a testo un acquisto nel 1959 presso l'hotel beverly hills quindi il beverly hills hotel di beverly hills c'è una la registrazione di un acquisto di una bottiglia di rose geranium a nome di marylin murro milla quindi marylin murro non solo dormiva con cinque gocce di chanel numero 5 ma molto probabilmente aveva avuto modo anche di apprezzare i prodotti di casa floris ian fleming è un altro estimatore di casa floris il creatore della gente segreto più famoso del mondo 007 anche più inglese che potesse mai essere immaginato bene proprio in una delle avventure di 007 moon raker il libro del 50 55 successivamente se il film che ne sarà tratto sarà degli anni settanta era già interpretato da roger moore ecco in moon raker cita appunto delle fragranze floris e di young fleming stesso sappiamo che amava particolarmente lo de toilette numero 89 quindi già vediamo la clientela di spicco che a questa questa casa ora dobbiamo ricordare che la famiglia floris che tuttora possiede l'attività è giunta alla nona generazione e nel 2018 il rappresentante attuale della famiglia che si occupa di creazione e produzione di profumi edward bodenham è entrato a far parte della british society of perfumes nel 1820 saltiamo di nuovo indietro nel tempo il principe di galles ascese al trono con il nome di giorgio quarto e nello stesso anno assegnò a floris il primo royal warrant cosa sono i royal warrant sono delle attestazioni che le case regnanti rilasciano ai propri fornitori e quando una società un negozio ha avuto questo riconoscimento sulla fronte del negozio in gran bretagna compare questo simbolo il leone l'unicorno con lo stemma della della corona inglese che quindi indica che si tratta di un fornitore della casa reale bene accanto a quel primo royal warrant che fa tuttora bella mostra di sé nel negozio di german street floris ne avrebbe acquisiti altri sedici assegnati successivamente tra cui quello della regina elisabetta e del principe carlo la fama di floris quindi crebbe uscendo dai saloni di belgrave di mefea oltre i confini nazionali ovunque ci fossero delle persone sofisticate che imponevano i dettami della moda nei secoli diciottesimo e diciannovesimo ciò che acquistavano i reali diveniva l'oggetto del desiderio della nobiltà e quindi nei libri mastri floris sono riportati i nomi di tantissimi esponenti di praticamente quasi tutte le case regnanti europee nel 1912 sono attestati degli scambi regolari tra il numero 89 di german street con gli stati uniti il sud america e l'europa e l'esposizione l'esportazione di profumi e preparazioni per toilette di floris venne effettuata su vasta scala apportando alla società una situazione di preeminenza e dei riconoscimenti persino nel sancta sanctorum della profumeria ovvero sia a parigi ma visto che ne parliamo tanto la menzioniamo tanto spendiamo qualche parola su questa famosa sede al numero 89 di german street sin da quando floris acquistò i suoi primi locali divenne immediatamente il centro del suo impero commerciale e fino agli anni 60 del novecento tutte le operazioni della società venivano effettuati in questa sede i profumi venivano miscelati a mano i prodotti cosmetici erano preparati sempre a mano nel seminterrato i sotterranei tuttora utilizzati come magazzino datano il 1675 dopodiché venivano portati al piano superiore dove ci sono questi spazi espositivi e appunto messi in bella vista su questi espositori in mogano spagnolo che vennero acquistati dalla casa nel 1851 in occasione della grande esibizione esposizione a hyde park e nell'antico negozio floris tuttora aleggia un'atmosfera cordiale rilassata la stessa che si respirava in passato tanto che è diventato una delle mete di quei tour che a londra portano a visitare i luoghi più tipici dell'identità britannica tuttavia ovviamente con l'andare del tempo con l'evolvere dell'attività questa sede non era più sufficiente nel 1989 venne aperta uno stabilimento produttivo quindi una fabbrica nel devon la quale venne inaugurata dalla principessa diana e nel 2012 floris aprì il suo secondo negozio a londra né sempre nel cuore di belgravia a ubri street al numero 147 evento che venne salutato con la creazione di una nuova fragranza denominata appunto ubri street un tributo alla relazione privilegiata di casa floris con i londinesi e in particolare alla tradizionale fornitura di prodotti da toaletta agli abitanti di belgravia un profumo il cui spirito coglie l'eleganza e lo stile di uno dei quartieri più sontuosi della capitale britannica nel 2017 floris ha cominciato a partecipare anche al chelsea flower show e allo hampton court garden festival e quindi si perpetua attraverso le nuove generazioni della famiglia l'opera iniziata da juan floris nell'arte della profumeria con un particolare orgoglio quello di creare dei profumi pregevoli capaci di superare le prove del tempo passiamo alla seconda grande casa profumiera londinese che gli adli gli adli deve il suo nome a un oscuro gentiluomo che intorno agli anni venti del 1600 chiese ed ottenne da regio da re carlo primo la concessione di fornire saponi alla city di londra ovviamente dietro pagamento di un cospicuo corrispettivo purtroppo le informazioni relative a questa primigenia impresa sono andate perdute in quanto sono scomparse bruciate nel grande incendio del 1666 il famoso great fire che distrusse praticamente londra tutto ciò che si sa è che già allora per profumare le saponette che venivano prodotte veniva utilizzata la lavanda inglese facciamo un salto temporale siamo nel 1770 è un tale mister cliva crea una società per la produzione di saponi e profumi la house of cliva nella city di londra il figlio william erede della società sposa una tale hermia yarley figlia sua volta di un facoltoso e ambizioso commerciante di nome william yorley quando la house of cliva non riesce a restituire un prestito di 20.000 sterline william yarley la salva assumendone il controllo quindi comincia una nuova attività yarley infatti nel 1851 la società ormai a nome yarley and statham e partecipa alla famosa grande esibizione di hyde park che abbiamo poc'anzi menzionato è uno degli stampi per saponi utilizzati esposti in quell'occasione è tuttora conservato presso la sede di yarley a londra nel 1879 è attestato che ben 22 varietà di saponi yarley erano esportati negli stati uniti e nel 1844 gli affari in grandissima crescita determinare no l'acquisizione di nuovi locali a richmond e la ragione sociale a quel punto divenne yarley company nel 1905 la yarley company limited è ormai uno dei principali produttori di saponi e profumi al mondo e nel 1910 è giunto il momento in cui la società apre un proprio negozio in una delle principali vie commerciali londinesi nota per stile ed eleganza l'abbiamo già menzionata ed è bond street nel 1921 arriva il primo royal warrant concesso a yarley dal principe dall'allora principe edoardo che sarebbe divenuto brevemente re con il nome di edoardo ottavo e nel medesimo anno yarley si insedia anche negli stati uniti durante la sua lunga esistenza yarley avrebbe lanciato sul mercato avrebbe prodotto più di centocinquanta fragranze e la sua specializzazione sono profumi classici dei soli florcia dei profumi monofiore ovvero sia basati su una preponderante nota floreale risalente a un solo fiore come dice il nome stesso oltre a buche floreali di tendenza e quasi 400 anni dopo la concessione di quella prima possibilità di produrre saponi per la city da parte di re carlo primo la lavanda continua ad essere la fragranza iconica della casa londinese infatti yarley london ha contribuito moltissimo alla conoscenza e alla valorizzazione della pianta di lavanda inglese negli anni trenta del novecento la società ha incaricato una serie di scienziati in particolare uno si chiamava john seager di viaggiare e di ricercare quelle che erano le varietà le cultivar di lavanda più resistenti ma anche più performanti dal punto di vista della profumeria la scelta cadde direi naturalmente sulla lavanda angustifolia che è la varietà più pregiata e anche meno produttiva di lavanda e così il risultato di queste esplorazioni credo si possa concludere sono i meravigliosi campi viola di lavanda che caratterizzano ormai il paesaggio dell'inghilterra del sud dove la lavanda angustifolia che ama climi non caldissimi e altitudini abbastanza consistenti si è acclimatata particolarmente bene quindi combinando le tecniche di lavorazione più tradizionali con le tecniche di estrazione più moderne gli arli london ha sviluppato una fragranza english lavanda che è originalissima e ha un fascino duraturo che l'ha resa tanto apprezzata da tante generazioni di clienti chiedo scusa ho fatto un pasticcio ecco e in quegli stessi anni gli arli divenne il profumero ufficiale della regina meri siamo quindi intorno agli anni trenta nel 1932 il governo abolì una tassa applicata sulla lavanda e questo fece sì che la produzione di gli arli fu incrementata e anche il fatturato della società raddoppiò aumentarono gli investimenti in pubblicità qui vediamo una pubblicità appunto di epoche non recentissime che già ci testimonia l'interesse per la comunicazione e la pubblicità detenuto dalla società e tanto che uno dei manifesti pubblicitari dei prodotti gli arli ricevette l'attestazione di poster dell'anno eravamo ancora nel 1932 nel 1949 gli arli ricevette un altro royal warrant da questa volta da parte di re giorgio sesto per il proprio sapone e nel 1951 venne aperto il primo magazzino della società fuori londra si scelse la città di liverpool intanto continuava l'espansione dell'attività all'estero e inoltre venne lanciata anche una linea di prodotti maschili che andava sotto il nome di wise cioè la y con il l'apostrofo del genitivo sassone la s e quindi gli arli rice nel 1955 la regina elisabetta seconda conferisce alla società un royal warrant seguita cinque anni dopo dalla regina madre e negli anni 60 il controllo della società passa di mano viene acquisito dal gruppo british american tobacco e viene scelta twiggy la modella più famosa del momento per posare per le campagne pubblicitarie gli arli non solo gli arli cosmetics in questo caso sarà anche l'artefice del famoso trucco per gli occhi di twiggy queste ciglia finte questi questo mascara che la rendono veramente l'icona della swing in london nel mondo e nel 1966 viene aperto quindi un nuovo stabilimento produttivo su un'estensione di ben 19 acri a basel don nell'essex nel 1971 la house of jrly si lancia in un'avventura del tutto particolare diviene sponsor di una scuderia di formula 1 la brm e qui vediamo le monoposto che avevano questa immagine caratteristica quindi un fondo bianco sul quale campeggiava la y dei prodotti maschili wise di yarli che veniva riprodotta in nero marrone e oro negli anni 80 la società passa di mano nuovamente ed è la volta di un'altra top model incarnarne l'immagine parliamo del viso del corpo di linda evangelista nel 1995 il principe di galles nomina yarli london suo fabbricante di preparazioni per toeletta nel 1998 la società viene acquisita da da vella e successivamente nel 2005 dal gruppo lorna mid che rilancia yarli london in europa e in america con una nuova immagine nuovi prodotti nuove formule e nuove confezioni oltre alla lavanda che rimane la fragranza simbolo l'icona della società il cuore della sua produzione sono abbiamo detto delle fragranze floreali e si tratta di profumi classici fondamentalmente la rosa inglese il mughetto nel 2010 la produzione viene sottoposta però a un profondo rinnovamento si cerca di svecchiare in qualche modo la produzione yarli e vengono anche create delle nuove confezioni che accentuano l'identità visiva dei prodotti sono queste in basso con dei colori vivaci che riflettono anche dei concetti legati a ciascuno dei fiori a cui è dedicato appunto il profumo e sull'onda di una domanda imponente da parte dei clienti yarli london rilancia anche uno dei suoi profumi storici e questo si chiama april violets una bottega del quale nel 2009 era stata venduta su ebay alla cifra di 100 sterline quindi si decide di reintrodurlo in nell'offerta di prodotti successivamente si cerca però di sviluppare dei bouquet dal gusto più contemporaneo il primo è peoni ispirato alle peonie e poi arriva il premiatissimo royal english daisy questo che è ispirato alla figura di kate middleton altri prodotti lanciati sempre nel 2011 sono una fragranza maschile una nuova fragranza maschile citrus and wood è una collezione di prodotti per il bagno e per la cura del corpo e nel 2012 per celebrare questa nuova linea la casa lancia anche una nuova campagna pubblicitaria in cui compaiono delle modelle che sono interamente vestite di fiori proprio per diversificarsi da tutto quello che poteva essere adottato come espediente pubblicitario dalla concorrenza sempre nel 2012 in occasione del giubileo di diamante della regina elisabetta e delle olimpiadi viene lanciata la fragranza diamond che nella versione floral diamond quindi con un bouquet più floreale è rivolta anche ad un pubblico più giovane quindi iarley comincia a collaborare con delle case sensiere internazionali per proseguire il proprio cammino eh volto allo sviluppo di nuove fragranze contemporanee in linea con le tendenze del momento senza trascurare quella che è l'identità della casa e la tradizione britannica che si propone di perpetrare una di queste è poler la vediamo qua una fragranza ciprata floreale che in qualche modo eh recupera ehm un un gusto che era quello degli anni venti in un revival per questo tipo di eh sentori e quindi abbiamo visto che gliarley London ehm affonda le proprie radici in profondità nella tradizione inglese ed è per eccellenza un marchio profondamente inglese che propone delle fragranze fondamentalmente floreali ispirate o basate su varietà di fiori autoctoni e eh corredate dalle correlate linee per il corpo e gliarley si freggia proprio come motivo di vanto in questa britannicità eh dal momento che ehm tutte le sue fragranze sono prodotte nel Regno Unito passiamo alla slide successiva che avevamo prima in qualche modo già eh intravisto torniamo un po' alla nostra narrazione cronologica eravamo attorno al mille settecentotrenta ebbene negli anni trenta del settecento un famoso chimico e profumiere che risponde al nome di Charles Lilly una delle sue trade cards che era una sorta di volantino antesignano delle eh dei biglietti da visita bene una delle sue trade cards è conservata al eh British Museum ecco eh nel mille settecentotrentasei Charles Lilly scrive questo libro The British Perfumer e poi ovviamente il titolo continua con tutta questa lunga definizione è un libro fondamentalmente dedicato all'autoproduzione cosmetica il quale eh può essere eh fu pubblicato postumo nel mille ottocentotrentidue e può essere tranquillamente scaricato gratuitamente letto con eh abbastanza facilmente attraverso questo link che vediamo da eh Google Books quindi se volete potete avventurarvi in eh questa consultazione. Eh fine del settecento sono gli anni della rivoluzione francese. La rivoluzione francese eh comporta delle conseguenze ovvero sia la scomparsa della profumeria di alta gamma in Francia. Il baricentro della profumeria alla moda si sposta temporaneamente dalla Francia quindi da Parigi a Londra. Sono anche gli anni eh parliamo del mille settecentonovantanove in cui James Atkinson crea la propria società. Questa è una storia particolarmente inglese direi per la curiosità e il senso of humor anche che eh è legato ad essa. Noi vediamo qui tanti orsi no? L'evoluzione dell'orso perché? Perché Atkinson ha deciso di adottare eh questa figura eh come proprio simbolo. Eh la storia è particolarmente simpatica ce la racconta eh anche il sito stesso della casa. Eh ci racconta proprio questo. All'inizio della primavera del mille settecentonovantanove James Atkinson un giovanotto intraprendente lasciò le terre selvagge del Camberland diretto a Londra. Nelle sue tasche portava con sé delle ricette di deliziosi profumi articoli da toiletta di sua concezione. Accanto a lui sul carro su cui viaggiava era posizionato un ingente carico di balsamo a base di grasso di orso profumato alla rosa. E accanto a quel balsamo c'era un ringhioso orso. L'orso ringhioso era profondamente affezionato a James. In pochi giorni il suo balsamo assolutamente fantastico divenne indispensabile alle spocchiose classi piogiate che affrontavano l'orso all'ingresso del 44 di Gerald Street. Quel meraviglioso negozio di profumi con quel terrificante orso all'ingresso per procurarsene. Ricostruiamo un po' la storia. Abbiamo detto eh a quest'epoca James Atkinson ha diciotto anni. Lascia il Camberland alla volta di Londra per cercare ovviamente fame fortuna anche lui come profumiere e fabbricante di raffinati articoli da Tueletta. Sul trono è insediato Re Giorgio III. La rivoluzione francese eh come abbiamo anticipato aveva spazzato via un intero settore quello del commercio di beni di lusso e quindi Londra era divenuto il luogo più importante al mondo per quanto concerneva la fabbricazione di articoli da Tueletta costosi come preparati per capelli, saponette, colonie. Il tutto veniva eh chiamato vanities, vanità con un unico eh termine. Ecco Atkinson si fa presto un nome eh vendendo appunto questi barattoli in ceramica che contengono eh delle pomate per capelli maschili al profumo di rosa le quali sono prodotte con eh del grasso di orsi russi e infatti sul coperchio proprio di questi vasetti in ceramica molto ben curati deliziosi in cui sono contenute questi prodotti è proprio rappresentato, raffigurato un orso incatenato con la museruola. Da qui probabilmente è nata la leggenda che lui avesse questo orso per amico no? La sorta del teddy bear che eh gli inglesi amano tanto anche come proprio come peluche. Ecco ehm inizialmente apre un negozio in Gerald Street l'abbiamo visto il 44 di Gerald Street dove si sarebbe stato posizionato questo orso con una sorta di attrazione per i turisti oppure di deterrente per per i malviventi. Ehm lo spirito però imprenditoriale di Atkinson lo portò ben presto ad ampliare la gamma dei prodotti offerti andando oltre gli unguenti per barba, baffi e capelli. Ben presto quindi furono eh create le prime tinture per capelli. Nel 1800 nasce English Cologne che è un la più sorprendente creazione olfattiva del tempo in quanto è uno de Cologne totalmente inglese quindi molto diversa dalle o de Cologne italiane che al momento andavano per la maggiore perché ha un profumo eh audace eh molto fresco ma nel contempo anche caldo e speziato che sono un po' le caratteristiche eh dei profumi Atkinson ancora oggi no? E quindi aveva un aroma molto più deciso molto più seducente molto più persistente eh rispetto agli altri prodotti disponibili ed era quell'aroma che si voleva vedere per vaso dello spirito degli abitanti dell'impero britannico. Eh il mondo poi delle inimitabili perché particolarissime creazioni di Atkinson si ampliò e inevitabilmente si trovò a fornire profumi ai più bai nomi dell'aristocrazia inglese ed europea con i più eh esclusivi bouquet realizzati su misura. Uno di questi eh particolarmente famoso lo ricordiamo è del 1820 anno in cui venne lanciato British bouquet un profumo che oggi è a base di arancio amaro gelatina di agrumi lavanda e a un accordo cuoio e eh era un intenso quanto eh celato omaggio a questo personaggio Lord Brummel. George Bo Brummel era eh l'arbiter eleganziarum dell'epoca. Eh aveva uno stile inconfondibile forse qualcuno di voi ricorda un film di parecchi anni fa con Stuart Granger e Elizabeth Taylor che appunto è dedicato a eh questa figura. Ecco ehm George Brummel era un amico del principe di Galles e negli anni novanta del settecento dettava legge tra l'aristocrazia in materia di gusto. È stato colui che ha promosso la consuetudine di fare un bagno quotidiano cosa che era un'abitudine decisamente sconosciuta alla corte di San James e che ha eliminato dal proprio abbigliamento la parrucca eh incipriata adottando invece come vediamo eh nel quadro riprodotto sulla slide una conciatura romantica disciplinata con la pomata per capelli Atkinson e eh questa moda si diffuse venne adottata dal principe reggente poi da Lord Byron dall'ammiraglio Nelson quindi eh decretò eh la fortuna della casa Atkinson eh la quale vantava tra i suoi clienti anche per esempio Napoleone che eh amava particolarmente le colonie come abbiamo già visto e quindi apprezzava particolarmente queste Lady Hamilton eh la zarina di Russia e eh in nel panorama italiano il principe eh Giuseppe Tomasi di Lampedusa l'autore del Gatto Pardo e la regina Margherita. Eh nel mille novembre 1823 venne lanciato un altro dei prodotti icona della casa English Lavender che è una fragranza assolutamente esclusiva anche nel mondo delle lavande eh sei volte più intensa del miglior profumo di lavanda disponibile sul mercato e questo era dovuto a degli apporti di muschio di quercia e di di ambra grigia di cui abbiamo diffusamente parlato lo scorso anno. Atkinson poi eh inventò anche degli oggetti abbastanza insoliti per esempio la lampada profumata un originale elemento d'arredo utilizzato anche come profumatore di ambienti. Nel 1826 grazie ai suoi rapporti privilegiati con i membri del Belmondo James Atkinson venne nominato profumiere ufficiale della corte inglese. E il libro mastro di casa Atkinson vanta una pletora di appassionati di fama come abbiamo eh ricordato. Nel 1831 eh James Atkinson viene affiancato nell'attività dal fratello Edward che eh contribuisce a far espandere l'attività commerciale dell'attività stessa su vaste proporzioni. Nel 1832 la casa ormai produce eh più di quaranta varietà di profumi e si trasferisce nell'iconica sede ubicata al numero ventiquattro di Bond Street che vediamo qui raffigurata in un eh disegno. Eh è un edificio magnifico caratterizzato da preminenti dorature e dotato di un imponente carrion che rintocca al cambio dell'ora il quale venne completamente distrutto da un incendio e ricostruito dalle fondamenta alla guglia nel 1926. Episodio che eh diede l'occasione per battezzare una nuova eh fragranza profumata che fu chiamata appunto 1926 in ricordo di questa prodigiosa ricostruzione. Oltre alla sede di Bond Street Atkinson eh apre ben presto altri prestigiosi negozi. Uno al due di Rue de la P a Parigi a Sydney in America. Quindi si diffonde veramente su scala planetaria. Nel miloottocentotrentasette vedono la luce nuovi profumi eh il bouquet della Rennes o coronation bouquet così chiamato per eh celebrare la l'ascesa al trono della regina Vittoria e con appunto l'ascesa al trono di una regina donna finalmente anche la casa Atkinson con il passaggio dall'epoca Regency a quella vittoriana eh comincia a produrre un maggior numero di fragranze femminili. Nel miloottocentoquaranta viene lanciato sempre in onore della regina Vittoria Napshal Bouquet un eh profumo che celebra il matrimonio tra la regina Vittoria e il principe Alberto e si trattava di una fragranza ispirata proprio dai fiori che componevano il bouquet penuziale della sovrana. Nel 1853 James Atkinson muore eh nel 1858 muore eh Edward e la la guida della società passa ai figli di questo battezzati anch'essi James e Edward. E eh nel 1878 casa Atkinson si eh aggiudica a Parigi una medaglia d'oro per una sua Eau de Cologne. Nel 1893 ancora una volta un profumo Atkinson diviene eh il profumo del matrimonio regale. È la volta di White Rose che viene descritto dalla principessa Alexandra la sposa con le parole e charming scent. Un profumo affascinante, fantastico, splendido. E quindi il suo amore per le rose e per questo profumo fece sì che eh sin dal giorno del matrimonio e fino a quello della sua morte una grossa bottiglia di White Rose le fosse recapitata presso la sua residenza ogni sei settimane con puntualità tipicamente inglese. Nel 1899 venne lanciato Centennial Bouquet quindi un profumo nato per celebrare i cento anni di attività della società. Eh cambiano cambia il secolo cambiano le situazioni. 1906 la eh direzione della società venne affidata a Horace Barrett il quale ha l'ingratto compito di traghettarla anche eh nel difficile periodo della prima guerra mondiale. Gli anni tra il milo e il 1914 e il 1918 sono particolarmente difficili per chi produce profumi in generale per la penuria di materie prime per l'applicazione di pesanti tasse sull'alcol che è la base per i profumi ma eh aveva eh era necessario utilizzare per altri eh scopi e eh per la perdita di moltissimi mercati esteri che eh con i quali si era eh purtroppo in guerra. Nel quindi eh la società esce dalla guerra in situazione abbastanza compromessa e per far fronte alle pesanti difficoltà incontrate nel primo dopoguerra nel 1920 Atkinson effettua una pubblica emissione di azioni ordinarie per un valore di centomila sterline. La quota maggioritaria della società viene acquistata dalla società Lever Brothers che diventerà poi il gruppo Unilever e infatti proprio in Unilever Atkinson viene eh integrata completamente. Nel 2002 la società viene poi venduta a Cosmopolitan Cosmetics e nel 2008 passa nelle mani dell'italiana Morris Profumi che successivamente cambia la propria ragione sociale in perfume holding Atkinson eh attuale licenziatario del marchio Atkinson che a partire dal dal 2013 è stato sottoposto a una massiccia campagna di rilancio. Procedendo eh nel corso del tempo intorno al eh 1800 siamo nel 1805 un'altra società che a noi italiani non dice assolutamente nulla la Traffile Hill eh nasce e a tutt'oggi è una società attiva e continua la propria attività con la produzione di articoli per parrucchieri e barberia. Quello che invece eh è un nome che ci ci risuona moltissimo e che eh ha cambiato veramente la il panorama non solo della della profumeria britannica ma ma direi di quella mondiale è quello di Eugene o Eugène Rimmel che eh inizia la sua attività in proprio nel 1834 e che sarà il protagonista del prossimo incontro. Grazie per l'attenzione e a presto.